Buongiorno a tutti voi, bene ritrovati, buon sabato mattina, come sempre alle 7.30 iniziamo Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV. Vediamo subito il santo del giorno E poi le previsioni del tempo, sabato 28 maggio è Sant'Emilio Martire, il sole è sorto alle 5.35 e tramonterà alle 20.34 E diamo una sbirciatina fuori, come sempre facciamo con la nostra webcam posizionata qua sopra E vediamo anche le temperature che una decina di minuti fa segnavano una temperatura rilevante per l'orario Sono più di 17 gradi già subito e un'umidità dell'84% Tutti i dati che potrete controllare minuto per minuto, ora dopo ora, consultando il nostro sito E cliccando sul banner di questo spazio meteo nostro di Fano TV Vediamo la webcam, eccola, immagini molto eloquenti, cielo terzo, bei colori, quindi si preannuncia una buona giornata Vediamole quindi le previsioni anche per i giorni a seguire, cielo sereno, poco nuvoloso, con delle velature nel pomeriggio Queste sono le previsioni per oggi, però senza precipitazioni e le temperature continuano a salire Domani c'è un po' un cambiamento di tendenza, come vedete dalla grafica anche il cielo è irregolarmente nuvoloso Con addensamenti, cumuliformi nelle ore centrali e sono previste anche possibili piogge O addirittura anche temporali sparsi però nelle zone collinari Vediamo lunedì, poi il primo giorno della settimana Ecco che le cose si rimettono un po' in sesto, sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione Ma le temperature, forse anche in virtù delle piogge che cadranno eventualmente nella giornata di domani Le temperature scendono Entriamo nei giornali, vi porto come sempre subito nel vivo delle pagine Ieri è stata una giornata contrassegnata dai processi, dalle udienze Ce ne sono stati due a livello nazionale, tre se vogliamo anche quello delle spese pazze in regione Che però era già avviato da tempo E allora, apriamo con il resto del Carlino Vediamo l'apertura dell'inserto locale Fotonotizia, la mossa segreta Ismaele Lulli, i legali di Ismaele Lulli, Reo Confesso Vogliono ribaltare il processo Ci sono nuove accuse, nuove prove, scusate, pronti a cambiare tutto Questa è la mossa segreta, vedremo dopo all'interno E l'altro processo, che ieri si è tenuta la prima udienza in tribunale a Pesaro Cordella, ma che bancarotta, solo sfortuna Queste le sue parole E poi ci sono dei rifiuti illegali Siamo a Fano nel porto e vediamo E allora, eccolo L'affondo, come titola il resto del Carlino L'affondo di Taormina, il legale che incarna la difesa Carlo Taormino, il famoso penalista, dice C'è qualcosa di molto nuovo che il giudice dovrà valutare La sua controparte, dice l'opposizione appunto di Levi Dice, pura strategia difensiva Vogliono gettare su Mario colpe che lui non ha Per questo mi opporrò all'incidente probatorio L'affondo appunto è questo Resta però il segreto di queste nuove prove Non chiedeteci quali siano i nuovi elementi scaturiti Che cambiano tutto Cambio di cellulare, i due imputati sono arrivati insieme Ma al ritorno sono saliti su vetture distinte L'altro processo appunto era quello di Cordella Il quale si discolpa nell'udienza Lungo interrogatorio Ieri davanti al GIP e ai PM Non ho rubato niente E' andata solo male Due ore e mezza di domande Dice, nessuna frode Semplici affari finiti mali Questa è la versione di Stefano Cordella Ritorniamo nelle pagine di Peso Del resto del Carlino Perché c'è Cronaca C'è un fatto di Cronaca Costringe la moglie a fare la ballerina nel night Arrestato per maltrattamenti e vissazioni in famiglia Un romeno Ancora nelle pagine del resto del Carlino Per l'altro evento che era richiamato L'altra notizia che era richiamata nella pagina di apertura Blitz dei carabinieri del Noe Nel porto di Fano e anche dell'ispettorato del lavoro Inquinamento, sequestro al porto Interviene anche l'ARPAM Effettuati i campionamenti dell'acqua Vedete nei cancelli Insomma il cartello dei carabinieri E poi andiamo a Orciano Per la frana Ora è nero su bianco per i finanziamenti Quindi la voragine di Orciano Verrà ripristinato L'assetto stradale Il come e il quibus è stato definito Ancora l'ultima pagina che vi propongo Del resto del Carlino di Fano Si parla di passeggi Il polmone verde della città A due passi dal centro Domani torna un appuntamento Per grandi, piccini, per anziani, per famiglie Per dare appunto un momento di socializzazione Il vero ruolo naturale Votato appunto per questo Un polmone verde di Fano L'appuntamento è alle 16.30 17 domani Cambiamo testata Andiamo con il Corriere Adriatico Per l'apertura dell'inserto di Pesaro Però si parla di opere di restyling Del centro della città di Pesaro La mano di Ciarlo Per ridisegnare il centro L'architetto Savonese Firma i progetti Per Piazza Mosca Pescheria Via Pedrotti E zona Conservatorio E quindi qui nella foto Vedete appunto L'architetto che ridisegnerà il centro storico di Pesaro Anche qui nel Corriere i due processi Riportati in prime pagine Colpo di scena La nuova verità di Igli Doppia richiesta Interrogatorio per lui E Mario davanti al GUP Vito Savino Si torna in aula Il 7 di giugno Vedete nella foto notizia L'avvocato Taormina All'uscita Dal tribunale di Urbino E appunto L'altro processo Anche qui riportato Nelle pagine di Fano Cordella Ammette tutto Ma i soldi Non ci sono L'imprenditore non rivela Davanti al GIP Dove siano finiti Gli oltre 6 milioni Distolti Alle sue Società Il mio Di sesto Dice Originato dal mancato rinnovo Del contratto di Telecom E dalla Crisi Economica La pagina Ultima Di Fano Del Corriere Adriatico Riporta In centro pagina Una bella iniziativa Che si terrà Nella giornata Di domani L'intera piazza Per l'intera giornata Appunto Sarà presidiata Da bambini Famiglie insieme Per salvare L'ambiente A promuoverla È Lanter Il respiro Della terra Chiama i Chiama i Ragazzi Vedete nella foto Anche Un volto noto Cristiano Militello Inviato di striscia La notizia Ormai un abitue Di Fano Di queste zone Venuto diverse volte Per i suoi Insomma Sempre simpatici Siparietti Sul calcio Vogliamo Che il nostro Futuro E i nostri figli Ricevano come nostra Reddita Un pianeta Sano E pulito Questo è La motivazione Di questa giornata Nelle pagine Del Curio Adriatico Vi faccio vedere Anche Senigallia Insegne abusive Bagnini Multati Pubblicità Negata Nei bar Gli operatori Pensano Alla Class Action Gli aperitivi Lanciano La Movida 18 locali Del centro Aderiscono All'iniziativa Food and drink Della Cigia Cene Con menu Esotici E poi il comune Rompe con La festa Della musica Usciamo dal circuito Facciamo da soli E risparmiamo Pure Ultima testata Il messaggero Anche qui Riportate In fotonotizia L'intervento Di Taormina Al tribunale Che gli dice Che dice Appunto Ribalteremo Il processo Lo vedete qui All'uscita Delitto di Ismaele Colpo di scena Poi l'altro Il terzo Processo Ieri è andato In scena Quello sulle spese pazze In regione Chiesti 61 Rinvii A Giudizio E poi Il tempo Stabile Domani però Sorprese Allora Entriamo nel vivo Delle notizie Nelle pagine Partiamo da quella Delle spese pazze Dove il pubblico Il ministero Ruggero Di Cuonzo Ha ridimensionato Un po' La portata Delle accuse Ma anche Se sono state Rinviate a giudizio 61 imputati Dice Qui non ci sono Solo ladri Ma spese Non consone Questo è Quello che ha Dichiarato Ieri Non voglio fare Il moralizzatore A parte Qualche spesa Personale Non c'è Alcun Ladrocigno Nella gestione Dei fondi Dei gruppi Consigliari Questo ci ha Tenuto A dirlo Appunto Al termine Della sua Requisitoria E poi Andiamo a Pesaro Con le ruspe In spiaggia Perché i bagnini Si pagano Il ripasciamento I lavori Però Sono solo Sul litorale Di Levante Quindi Ripasciamento In spiaggia Ma non Per tutti Ritornato Insomma Alla cronaca Questo episodio Afferrato Di violenza Che è stato L'omicidio Di Anna Curina Per l'arresto Il riarresto La cattura Del suo Assassino L'attitante De Cristoforo E allora Adesso Una via Per ricordare Anna Maria Curina La parola Va al Quartiere L'ipotesi Di una nuova Darsena O la piazzetta Di Cala Caio Duilio Anna Maria Renzoni Dice stato Il primo Femminicidio In città E a proposito Appunto Di violenza Sulle donne Di femminicidio Film su Lucia Altra giornata Di ripresa Tra piazzale Matteotti E il Molo Oggi la troupe Anche al liceo scientifico Per ricostruire Gli incontri Della Annibali Con gli studenti La pagina di Fano Del messaggero Incentrata appunto Sul processo A Cordella Interrogato Per due ore Ed è scontro Sulle cifre Della bancarotta Per l'accusa Un buco Di 6,3 milioni Il difensore Dice però La somma È da Ridimensionare L'imprenditore Fanese È stato sentito Dal giudice Per ora Resterà In carcere E poi Parco Per addestrare I cani La polemica Non si attenua Scendono in campo Gli ambientalisti Che protestano Lupus in fabula Argonauta E Bartolagi Contro L'assegnazione Di altri 22 E altri 21 Ettari Ai cacciatori E poi È stato presentato In questi giorni Ieri mattina Al teatro della fortuna Il cartellone Della prosa Tanti i big In cartellone Il direttore Di Amat Santini Dice abbiamo cercato Di rispondere Ai gusti Del nostro Pubblico Questo era L'ultimo articolo Che vi proponevo Del messaggero La rassegna stampa Di oggi Sabato Termina qui E domani Naturalmente Non c'è Perché è domenica Tornerà lunedì mattina Alle 7.30 Bene Grazie per essere stati con noi Buon fine settimana A tutti